Nella straordinaria cornice del convitto nazionale Mario Pagano all'interno del giardino del prestigioso istituto è stato presentato il volume Molise da vivere curato dall'eclettico Antonio D'Ambrosio che in questa circostanza ha unito le proprie doti di storico a quelle di giornalista. Il risultato è un libro godibilissimo che propone sulle orme di Francesco Iovine una narrazione suggestiva del Molise accompagnata da una serie di itinerari proposti al viaggiatore corredati da una serie di scatti che esaltano il territorio regionale. Il volume in italiano e in inglese rappresenta come è stato sottolineato un ponte ideale verso tutti i molisani sparsi nel mondo. È stato voluto fortemente dall'assessore dei molisani del mondo Vincenzo Cotugno che ha ritenuto che come regione si doveva produrre un documento, un libro cartaceo per farlo diventare lo strumento dei molisani nel mondo per la promozione della nostra regione e mi sembra che il risultato sia eccellente eccellente sia la forma, la sostanza e abbiamo seguito l'idea di Francesco Iovine di un viaggio nel Molise che è forse il libro più letto di Francesco Iovine perché ha quella forma che sancisce nel sistema letterario nazionale Francesco Iovine come fantastico e realistico. Nel corso della presentazione alla quale ha partecipato anche il presidente della regione Toma è stato l'assessore Vincenzo Cotugno a dare una notizia che potrebbe finalmente determinare una svolta per il territorio molisano, ammonta un miliardo di euro la somma che la regione molise ha destinato ai settori del turismo e della cultura, un impegno pluriennale notevole che per la prima volta getta le basi di una programmazione concreta. Sì, tre anni di grande lavoro nonostante un anno e mezzo di pandemia, oggi abbiamo presentato un volume che è il molise da vivere, da vivere perché bisogna viverlo direttamente per assaporarne i profumi, i sapori, i colori, non è un molise che si può raccontare ma bisogna viverlo direttamente. Azioni previste per i prossimi sette anni, un miliardo di investimento, significa che la regione veramente ci crede in questo settore. Abbiamo finalmente un piano di sviluppo che presenta le azioni e gli assi per circa un miliardo di investimento. Veramente vogliamo ripartire con il turismo e la cultura perché questa regione veramente su questi asset può creare lo sviluppo ma il futuro stesso dei molisani. Si riparte quindi dal territorio e da quelle che sono le sue espressioni più genuine e identitarie sperando che questa sia la volta buona. Nella scorsa legislatura regionale turismo e cultura erano relegati nei bassi fondi della programmazione regionale. Adesso ci sono strumenti e soldi per scavare in quella che a buon titolo può essere considerata la vera vena aurea del Molise.